Salve a tutti. Proseguo la carrellata concludendo con quest'ultima lezione, la carrellata sugli autori delle letterature antiche e moderne, sia italiana che latina, degli studiosi, degli storici, dei filosofi che hanno trattato del Golfo della Spezia e della zona che va più o meno da Punta Mesco fino alla Foce del Magra e nell'entroterra anche che hanno trattato la Luligiana, che anche se non amministrativamente, dal punto di vista affettivo, culturale e della vita quotidiana, gravita in gran parte sulla Spezia. L'altra volta ci siamo soffermati in particolare su Alfieri e su Mazzoni e arriviamo ora al Novecento e nel Novecento non possono ricordare la figura di Gabriele D'Annunzio che nell'Alcione, che è una delle laudi, nella lirica commiato si sofferma in maniera particolare sulla nostra terra. Dal capo corvo, ricco di viburni, i pini vedessi io della palmaria, che con lutto dei marmi suoi notturni sta solitaria. Potessi io sostenerti nella mano, terra di luni, come un vaso etrusco. In te amo, il divin marmo apuano, l'umile rusco. Amo la tua materia prometea, la sabbia delle tue selve aromali, l'aquila dei tuoi picchi, la ninfea dei tuoi canali. Potesse l'Artemia, da Val di Serchio a Val di Magre, per le panni al Vare e al Golfo, tutta stringerti in un cerchio con l'Alpe a gara. L'Annunzio, nel suo stile immaginifico, che può piacere o non piacere, dal croce fu definito dilettante di sensazioni, ma ha avuto una buona rivalutazione negli ultimi decenni, e in particolare è stato rivalutato Alcione, descrive la nostra terra. Alcione è il racconto di un'estate, diciamo, in Versilia, in una zona che si può estendere anche oltre la Versilia, cioè dal nostro Golfo fino alle foci del Serchio e dell'Arno, con alcune puntate nell'entroterra, come potrebbe essere la Sierra Fiesolana, qui dice «Dal capo corvo ricco di viburni, vedessi io, potessi vedere io i pini della Palmaria, che con i suoi marmi notturni sta solitaria». È una visione che altre volte viene da parte di L'Annunzio della Palmaria come vista dalla Versilia. Ricordo in particolare in Meriggio, che parla dell'isola del Faro, che è l'isola del Tino. Dalla Versilia la visione della Palmaria e del Tino ha una prospettiva particolare. La Palmaria col lutto dei marmi notturni sta solitaria. «Potessi io sostenerti nella mano terra di luni, come un vaso etrusco». Bella questa immagine della lunigiana come terra di luni da sostenere nella mano. E poi riferimento alle Apuane, alla materia prometea delle Apuane, cioè a queste montagne che Ettore Cozzani, nella sua rivista L'Eroi, che definiva delle montagne orgogliose, perché si elevano da zero fino a duemila metri. Sono montagne della nostra terra che ci appartengono in maniera particolarmente sentita vicina. «La sabbia delle tue selve aromali, l'aquela dei tuoi picchi, la ninfea dei tuoi canali. Potesse l'artemia da Val di Serchio e Val di Magra per le panie, che è il vecchio nome delle Apuane, al Vare e al Golfo, tutta stringerti in un cerchio con l'Alpe a gara». Questo è il dannunzio di commiato appartenente alla raccolta al Cione. Non posso non fare riferimento a un poeta nostro, forse al più nostro di tutti i poeti, cioè Ubaldo Mazzino, una figura interessante, poliedrica, un grande intellettuale che visse a cavallo tra il XIX e il XX secolo e che animò la spezia prima della costruzione e che, più che animò, conobbe da vicino per averla studiata e anche per averla ancora vissuta nei suoi ultimi istanti. Cos'era la spezia prima della costruzione dell'arsenale? Spezia, come vi dicevo, che viene inaugurata nel 69 e che soprattutto vede la trasformazione di Spezia dopo la costruzione dell'arsenale. Spezia era una città con poche migliaia di abitanti, non era una città, era un borgo, con poche migliaia di abitanti arroccate nella zona sotto il poggio. Dopo la costruzione dell'arsenale del 1800, che fu inaugurato nel 1869, passò in brevissimo tempo a 70.000 abitanti. Ebbe una crescita tumultuosa, vide nascere nuovi quartieri, uno fra tutti il quartiere Umbertino, che doveva ospitare le maestranze dell'arsenale insieme a altri lavoratori e insieme anche alla media piccola borghesia. Vide espandersi il suo piano urbanistico verso nord e Mazzini vide questo cambiamento. Lo visse direttamente e tra le tante testimonianze che ci ha lasciato per Spezia, di Spezia mi piace leggere a spesa la sua poesia più famosa. E fra tutte città dell'universo mea credo che paese neghe sia, mia proprio die che Cristo gli ha già perso dopo averla fabbricà a magia. Bella le bella, la vede anguerso, cioè bella e bella, la vede anche un cieco. E ho sentito a die che per quanto se sia al mondo è lungo e largo neghe verso, è un golfo così bello in essa mia. E ho sentito dire che per quanto si percorra il mondo in lungo e largo, un golfo così bello non c'è. Ma ci belezza bella e sorprendente, la chiusura ironica di Mazzini, la cosa più bella e sorprendente è che se c'è uno Spezzino che abbia nella testa un po' di talento, un po' di genio, io schivo tutti e ne considero niente. Cioè lo schivano tutti, lo evitano tutti e non lo considerano per niente. Ma se ven nase chi da cada pesta, ma se viene qui qualche asino da una casa del diavolo, gli è incapaci di fargli un monumento, cioè sono capaci di fargli un monumento. E purtroppo, forse ancora oggi, Spezia ha questa caratteristica. Veniamo verso la conclusione e ci avviamo velocemente, superando i crepuscolari, superando altri autori dell'inizio del secolo. Perché non fermarci su Virginia Woolf? Ma dormimmo alerici la prima notte che dà il tocco della perfezione al golfo, al mare calmo, ai verdi velieri e all'isola e ai lumi notturni rossi e gialli che scintillano e svaniscono. E ancora, saltando Govoni, arriviamo a Herbert Lawrence, che trova alloggio, come si sa, a Fiascherino. Caro Garnett, è una lettera. Sono così entusiasta di questo posto scoperto di recente che non posso fare meno di descriverlo. È perfetto. È una miniscola baia, racchiusa fra le rocce, in parte nascosta fra gli olivi che granano rapidamente verso il mare. Vicino alla riva c'è una casa di pescatori, piuttosto bassa, tutta dipinta di rosa. E infine c'è la villetta dietro le gamborasee, un cottage, anch'esso colorato di rosa, di quattro stanze. Come esce dal cancello della villetta, si è al mare, che si frange contro le rocce. Il giardino è una vigna. Questo è il mio posto, dice David Herbert Lawrence. Ve ne sono molte lettere sue. Come non ricordare Montale? Montale di Portovenere, in ossi di seppia. Là fuoriesce il tritone dai flutti che lambiscono le soglie di un cristiano tempio ed ogni ora prossima è antica. Ogni dubbiezza si conduce per mano come una fanciulletta amica. Là non è chi si guardi o stia di sé in ascolto. Qui vi sei alle origini e decidere è stolto. Ripartirai più tardi per assumere un volto. L'uomo che va a Portovenere dimentica per un momento ogni cognizione temporale, ogni cognizione del luogo. Ogni ora prossima è antica. Ogni dubbiezza si conduce per mano come una fanciulletta. Lì non c'è chi si guarda e chi si allestiene ascolto. Lì si è alle origini ed è stolto decidere. Una volta allontanati ci da Portovenere riprenderemo il nostro volto. Per un attimo lì siamo vicini al varco forse direbbe in un altro componimento montale. Portovenere ci mette di fronte a uno dei varchi possibili per incontrare la verità della vita e il significato della vita. Pochi sanno che Hemingway in uno dei 49 racconti parla diffusamente di Spezia. Il racconto è di l'upara di se stesso e di un amico che si fanno dare un passaggio e alloggiano poi, si soffermano a desinare e si fermano a Spezia in una locanda. Uno dei 49 racconti intitolato Che cosa ti dice la patria? Ma forse il passo con cui è giusto concludere questa nostra analisi è un passo di uno dei più grandi del Novecento che è Pasolini. Nella lirica Italia Pasolini dice Fresco tremava il monte di lerici d'oli azzurri davanti al battello tra le luci della Spezia mentre l'inverno accarezzava l'alba con mani dolci di brezza a mare di sole e la barca di Scelle è come in una stampa dove il verde si stinge nell'azzurro approdando a corava l'aria di Portovenere poi sorse il mattino e tutto fu bianco. L'incisività di Pasolini di questo grande intellettuale del Novecento poco compreso che ha visto molto lontano direi che ha visto molto lontano per quello che sarebbe accaduto in Italia ha visto però anche bene le cose che aveva di Cina in questo caso ha visto bene veramente bene le caratteristiche più belle più poetiche della nostra zona del nostro volo. è stato un viaggio lungo gli autori che hanno connotato e colorato la nostra terra è un modo per ricordare a tutti e spero che a questo sia servito che nessuno è alla periferia di nulla che anche una terra come la Spezia che si ritiene tenuta lontana dalla grande letteratura ma non dalla grande storia ma dalla grande letteratura sì ha avuto i suoi cantori è un luogo non tanto per sprovincializzare la nostra terra che è già si è saputa già sprovincializzare da sola ma è un luogo per vedere la nostra terra inserita e inseribile in un grande percorso culturale in un grande percorso artistico letterario in un grande percorso storico che le diano e le conferiscano il ruolo che merita. Grazie a tutti.